Scendere in campo per il sociale attraverso l'arte del decoupage da insegnare alle donne iscritte alla FIDAPA e ai volontari dell'associazione Unitalsi che si sono incontrati nella sede dell'associazione di volontariato presente nell'ex comune di Grotta Minarda. Questo è il nostro primo appuntamento nei percorsi d'arte, il primo appuntamento è un corso di decoupage, un corso di decoupage per dare sfogo alla creatività ma soprattutto un messaggio per quanto riguarda il riciclaggio, riciclare oggetti, oggetti usati, piatti, bottiglie, qualsiasi cosa per dare una nuova forma, dare una nuova vita e quindi dare sfogo a questa creatività ma soprattutto è stato un progetto che si sta realizzando insieme all'Unitalsi ed è molto bello vedere due associazioni unite insieme per lavorare e per costruire qualcosa nel futuro. Le due associazioni hanno voluto sottolineare di come sia importante ritrovarsi tutti insieme per esprimere sentimenti di amicizia nel rispetto dei valori e dell'amore verso gli altri anche attraverso l'arte. Cerchiamo di collaborare tra associazioni sullo stesso territorio perché cerchiamo di essere presenti dal punto di vista del sociale e umanitario soprattutto. Stiamo realizzando questo primo incontro, speriamo che ce ne siano tanti altri, abbiamo anche avuto l'adesione di alcuni nostri amici disabili che stanno lavorando e si stanno anche divertendo molto.